Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Oggi sono da solo, non c'è Francesco che è stato trattenuto per impegni. Vi ricordo che questa sera c'è l'incontro dei pagani e dei politesti, dei pagani e dei vicaveneti, diciamo così, si incontrano a Montegrotto in via Aureliana presso il pub Inbolk verso le ore 21 circa 8 e mezza, 9 insomma. Bene, per cui se qualcuno vuole venire per caso ci può trovare tranquillamente a quell'indirizzo e a quel numero telefono, a quell'indirizzo, in via Aureliana, numero 9 mi sembra, comunque il pub Inbolk e l'appuntamento 20 e 30 21. Altra cosa, il giorno 24, sabato 24 marzo, ci ritroviamo tutti assieme per il rito dell'equinozio di primavera. Il rito che riguarda la nascita, celebriamo la nascita e ogni nascita perché la nascita è un atto di conoscenza e chiedo alle persone di essere puntuali sul posto del rito più tardi alle 17.30 in modo di poter cominciare tutti assieme. Io vedrò di preparare il più possibile il posto del rito il giorno prima o dei giorni prima in modo che i lavori poi per preparare il luogo del rito siano il più contenuti possibili e più persone arrivano prima nel pomeriggio possono dare una mano anche a finire di sistemare. Per cui l'appuntamento è per il rito dell'equinozio di primavera, il sabato 24 marzo, ore 17.30. Allora, oggi giovedì 8 marzo, giornata di ricorrenza della donna. Ormai penso che quasi tutti se lo siano un po' dimenticati, ma comunque ricordiamoci che questa data è una data estremamente importante perché si trattava non tanto di fare una festa ma di ricordare quelle che sono le trasformazioni sociali che hanno nella donna l'elemento centrale della trasformazione della società e della libertà dell'uomo. Ebbene, non mi ricordo in che anno, in quell'anno, in una fabbrica, le operai e le donne a New York, credo che sia stato, vennero chiuse in fabbrica dal padrone e dal titolare per impedire loro di far sciopero. La fabbrica ha preso fuoco o fu il titolare a dar fuoco alla fabbrica e molte decine di donne morirono bruciate in quell'incendio. Quel giorno fu considerato festa della donna e credo che a dichiarare la festa della donna fu Clara Zetkin che con Rosa Lussemburg fu fra i promotori dei movimenti comunisti dell'Austria dei primi del Novecento. Perché Clara Zetkin e tutta una serie di altri personaggi sono riusciti a comprendere come la libertà della donna sia in realtà la libertà dell'intero tessuto sociale. C'è un tessuto sociale che non si misura sulla libertà del Presidente della Repubblica o del capo della Polizia, ma si misura sulla libertà che può avere il barbone, l'emarginato, cioè i livelli più bassi della società civile. Ed è là che si misurano l'incidenza che hanno i diritti costituzionali per le persone. 8 marzo dunque. Ed è esattamente di questo che voglio parlare nella trasmissione. Negli anni 70 c'è fu un caso eclatante qui nel Veneto. Ho avuto una vicenda personale. Quattro balordi di paese hanno massacrato e fatto violenza a mia sorella, mi ricordo. E allora negli anni 70 facevo parte di vari movimenti, di vari gruppi della sinistra extraparlamentare, prima di fare stragoneria, prima di fare paganesimo. E quella violenza che ha subito mia sorella riuscimmo a legarla ai movimenti femministi che chiedevano la libertà, cioè che chiedevano praticamente il riconoscimento della proprietà del corpo da parte delle donne. Essenzialmente fu allora lotta femminista che partecipò, diciamo così, attraverso mia sorella tutta una serie di manifestazioni, tutta una serie di azioni all'interno del tessuto sociale per riaffermare il diritto della donna ad avere la proprietà di se stessa, la proprietà del proprio corpo e la libertà della società civile nel suo insieme. Dopodiché questo movimento, come tutti i movimenti degli anni 70, un po' alla volta ha cominciato a rifluire, a cambiare obiettivi, a sfilacciarsi e a disperdersi. Però non furono lotte vane o cose fatte per nulla, perché in realtà ciò che è stata suscitata era la coscienza, la coscienza delle persone di avere la proprietà di se stesse. E iniziò allora, poco prima quello lo accentuò, poi fu portato avanti, il discorso per cui la violenza non era una violenza contro la morale, come tanto piaceva a gentaglia criminale come Voetila, come Ratzinger, come Ruini, ma era una violenza contro la persona. E da là si iniziò praticamente quel percorso di trasformazione dell'idea sociale e quel percorso di trasformazione anche dello status giuridico che dopo 20 anni da allora ha portato, anche perché molte femministe di allora hanno acquisito dei posti, dei ruoli sociali più importanti, anche i partiti politici hanno compreso che ormai non si poteva più tornare indietro dalle istanze sociali e praticamente la violenza sessuale essenzialmente, comunque la violenza contro le donne viene considerata una violenza contro la persona e non una violenza contro la morale. E il nemico per impedire che la violenza sessuale fosse una violenza contro la persona ma fosse continuata a essere considerata una violenza contro la morale fu la Chiesa Cattolica. Guarda caso, tutte le volte che nella società civile c'è qualcosa che promuova la persona, che promuova quelli che sono la realizzazione del dettato costituzionale, delle libertà dell'uomo, il nemico e sono sempre gli adoratori del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Il loro desiderio di costringere le persone a strisciare, a umiliarle, a renderle povere, a derubarle, è talmente grande che trova il cristianesimo come nemico della società civile, nemico di ogni istanza di libertà che attraversi l'uomo. Ebbene, esattamente di questo che voglio parlare, perché se noi facessimo una semplice celebrazione della giornata della donna non diremmo assolutamente niente, ma se noi ci inseriamo in quel percorso di libertà sociale, cioè in quel percorso di ricostruzione di quello che è la responsabilità delle persone sia nei confronti della società, sia nei confronti per noi stessi, allora non facciamo semplicemente una celebrazione della giornata della donna, ma andiamo in quel solco di libertà dell'uomo in cui si celebra tutti i giorni la trasformazione degli individui. Ebbene, in internet ho messo due pezzi recentemente, uno si intitola Il potere di avere e la pulsione di morte e l'altro è un discorso sul potere di essere, la donna, il parto e il futuro sociale. I discorsi relativi al potere di avere e al potere di essere sono due discorsi che sono relativi esclusivamente al paganesimo politeista, sono relativi esclusivamente alla stregoneria. Voi non trovate in giro nulla, in nessun filone filosofico che si parla del potere di essere o del potere di avere. L'unica accenno a una questione similare lo abbiamo in Eric Fromm. Eric Fromm scrisse un libro all'inizio degli anni 70, nel 74, che si intitolava Avere o Essere. Ebbene, Eric Fromm concepiva il potere di essere come la distruzione dell'uomo. Cioè, ciò che contraponeva al potere di avere, cioè alla ricchezza, ai mezzi, al benessere, era la distruzione della ricchezza e la riduzione delle persone in povertà. Per cui non aveva una concezione dell'uomo in se stesso, dell'uomo come entità completa, dell'uomo come soggetto che agisce nel mondo, ma aveva soltanto la concezione del potere di avere dove qualcuno possiede e qualcun altro è posseduto. Ebbene, quel qualcun altro che è posseduto e che riafferma se stesso rispetto a chi lo possiede, per Eric Fromm era l'essere dell'individuo. In realtà non è altro che la contesa tra due poteri di avere, non ha niente a che fare con l'essere. Perché l'essere è la manifestazione dell'individuo, delle sue tensioni, delle sue pulsioni nella società in cui vive, al di là delle categorie sociali che questo occupa, che questo comporta. E sono due cose completamente diverse. Erano inconcepibili anche per Fromm i concetti del potere di essere. L'essere non era un potere, ma era una riduzione in miseria dell'uomo all'interno del potere di avere. Ebbene, il potere di avere e la necessità di distruggere la ricchezza è una necessità che viene sviluppata nella storia attraverso il pazzo di Nazareth. Cioè, è il pazzo di Nazareth che usa i concetti dottrinali della distruzione della ricchezza per dominare l'uomo. Attenzione, quando leggiamo il concetto di Vangeli, adesso vi leggerò anche un pezzo di Vangeli, il pazzo di Nazareth manifesta il potere di avere attraverso il possesso delle persone. Cioè, le persone devono riconoscere lui come il figlio del Dio padrone e devono mettersi in ginocchio davanti a lui. Cosa impedisce alle persone di mettersi in ginocchio davanti a lui? Che le persone abbiano la conoscenza, che le persone abbiano il sapere, che le persone svelino che lui è un povero deficiente, se qualcuno scandalizza questi piccoli meglio che si attacchi una macina al collo, no? E' solo perché gli si dice, ragazzi, guarda che questo è un povero deficiente, questo è scandalizzare i piccoli. E' naturalmente che le persone non vivino nel benessere. Cioè, distruggere il benessere sociale per poter impossessarsi delle persone. Il pazzo di Nazareth è semplicemente un criminale che vuole rendere le persone schiave e sottomesse a se stesso. Davanti a delle persone che manifestano un potere di essere, cioè una condizione propria, con le quali affrontare la vita. Vedi i farisei, vedi i sadducei, vedi Cesare, vedi il ricco, cioè tutti coloro che hanno qualcosa, i farisei hanno un'ideologia religiosa, per esempio, i sadducei hanno una concezione della vita oltre alla morte che non è la sua, il ricco ha del benessere con cui affrontare la vita. Ebbene, tutte queste persone sono odiate dal pazzo di Nazareth proprio perché queste persone hanno qualcosa per le quali non si mettono in ginocchio. E questo è importante. E proviamo a vedere il discorso che fa sulla ricchezza il pazzo di Nazareth. E lo prendo da Luca 18, 18-27. Un tale di nobile famiglia lo interrogò. Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù gli rispose, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire farsa testimonianza, onore del padre e della madre. Quello rispose, tutto questo io l'ho osservato fin dalla mia giovinezza. Udite la risposta, Gesù disse, ti manca ancora una cosa. Vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. A queste parole, egli, il ricco, si fece triste perché era molto ricco. Visto ciò, Gesù esclamò, oh come difficilmente coloro che possiedono ricchezza entrano nel regno di Dio. E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entra nel regno di Dio. Quei lo ascoltarono e dissero, siccome stavano accumulando ricchezza e questi deficienti, chi dunque può salvarsi? E Gesù rispose, quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Luca 18, 18-27. Pertanto, a quello che gli interessa, Gesù non è la società civile. Non dice al ricco, visto che sei ricco, cerca di costruire una società civile migliore. Costruisci scuole, costruisci strade, commercia, alimenta la ricchezza della società. No, non gliene frega niente. La gente deve essere distrutta, la società deve essere distrutta. Infatti, in questo passo evangelico, il ricco non rappresenta il ricco come persona, ma rappresenta la società nel suo insieme. La società nel suo insieme che deve disperdere le sue possibilità e le sue ricchezze per sottomettersi a questo povero deficiente. E questo sarà il leitmotiv che avranno poi i cristiani a Roma, che andranno a distruggere Roma, che andranno a distruggere ogni cultura, che andranno a distruggere ogni cultura africana, proprio per costruire la miseria. La miseria è costruita dai cristianesi. Il problema è che, mentre questo diventerà una direttiva dottrinale del pazzo di Nazareth, che verrà applicata accuratamente dalla Chiesa Cattolica, il pazzo di Nazareth giustifica le sue aberrazioni all'interno dei Vangeli con cosa? Cioè, perché Luca, l'Evangelista, accetta come bella questa operazione folle del pazzo di Nazareth? Perché tutta la predicazione del pazzo di Nazareth ha come fine la sua follia. Cioè, lui dice, io sono il figlio del Dio Padrone, e non passerà questa generazione senza che le stelle cadranno sulla terra, senza che voi vedrete, mi vedrete a me arrivare con grande potenza a destra del Padre, e il mondo finisce. Cioè, questo è il senso della predicazione del pazzo di Nazareth. Per cui dice, io sono il vostro padrone, perché io verrò alla destra del Dio Padrone, e vi giudicherò, vi ammazzerò tutti. Per cui, o fate quello che voglio io, oppure vi mando dove c'è terrore e stridò di denti. Questo povero deficiente va in giro a ricattare le persone in maniera pesante. Infatti, proviamo a leggere gli intenti della predicazione di Gesù in Luca, esattamente Luca 21, 25 e 28. Vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra le nazioni si troveranno in angoscia, spaventate dal rimbombo del mare e dei suoi flutti. Gli uomini saranno tramortiti dallo spavento e dall'attesa angosciosa di quel che verrà sopra la terra, poiché le potenze dei cieli saranno sconvolte. Vedranno allora il figlio dell'uomo venire una lube con grande potenza e grande gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, guardate in alto e alzate il capo, perché la vostra redenzione sarà vicina. E ancora, Luca 21, 29, 32 dice Osservate il fico e tutte le piante, quando vedete che già mettono i germogli, voi sapete che l'estate è vicina. Così quando vedrete succedere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò sia avvenuto. Pertanto, questo povero deficiente, le sue affermazioni le faceva in un contesto in cui la fine del mondo doveva arrivare da un momento all'altro e lui, trionfante a destra del padre, si riteneva il padrone degli uomini da ammazzare tutti. Questo povero deficiente fa questa operazione, la Chiesa Cattolica prende l'insegnamento dottrinale e fa duemila anni di devastazione e di distruzione dell'uomo. Ebbene, l'elemento fondamentale del pazzo di Nazareth è trasformare le persone in oggetti di possesso. Per cui il potere di avere non ce l'ha il ricco, cioè non ce l'ha il potere di avere una società ricca nel suo insieme, ma il potere di avere ce l'ha il pazzo di Nazareth che pretende di distruggere la ricchezza sociale affinché tutti si mettano in ginocchio davanti a lui. E a pagare il prezzo più alto di questo è la donna. Bene, adesso che abbiamo stabilito qual è il potere di avere e cosa comporta, vi farò un discorso sul potere di essere, la donna e il parto e il futuro sociale. Vi ricordo che trovate tutto in internet quello che vi sto dicendo. Il potere di essere è la rappresentazione del singolo individuo nella società in cui vive, a prescindere dal ruolo sociale e dal potere economico che dispone. Il potere di essere è la capacità dell'individuo di dispiegare e veicolare nel mondo e nell'insieme in cui vive le proprie emozioni in modo da soddisfare i propri bisogni psichici. Si tratta di considerare l'individuo al di fuori della classe sociale o della classe economica come soggetto sociale, in quanto soggetto sociale, come soggetto della natura, in quanto soggetto della natura. È vero che non esiste un individuo che possa essere distinto dall'insieme in cui è divenuto, per cui non esiste un individuo che possa prescindere dalla propria classe sociale o dal proprio potere economico. Tuttavia, esistono tutta una serie di elementi che ci permettono di individuare la qualità degli adattamenti del soggetto tali da permetterci di dire che questo individuo conta su se stesso, quest'altro individuo conta sul ruolo sociale che ricopre o sul proprio potere economico. Sia che si tratti dell'accattone che tende la mano per l'elemosina, sia che sia il ricco industriale o il nobile possidente terriero. Possiamo individuare nei gesti e nel modo di porsi l'individuo che conta su se stesso e distinguerlo dall'individuo che veicola se stesso attraverso il ruolo o la condizione economica. Per esempio, l'arroganza di chi dice lei non sa chi sono io ha la stessa base psicologica dell'accattone che piagnucola la propria condizione economica o le proprie disgrazie per accogliere qualche soldo. Per contro, la mancanza di capacità o possibilità soggettiva di veicolare le proprie emozioni nel mondo in cui si vive implica l'insorgenza della malattia nell'individuo malattia che viene individuata a livello psichiatrico dalla medicina moderna. La mancanza di potere di essere impedisce alle persone di affrontare in maniera vantaggiosa la particolare situazione che stanno vivendo. Proviamo a fare un esempio specifico. Dal settimanale all'Espresso del 22 febbraio 2007 Depressione post partum Madri senza madre Colloquio con Massimo Amaniti di Maria Simonetti Colpisce la depressione post partum una donna su dieci eppure c'è ancora chi tra clinici e ricercatori ne nega l'esistenza è la depressione post partum a cui lo psicanalista Massimo Amaniti con Silvia Cimino e Cristina Trentin ha dedicato il libro quando le madri non sono felici il pensiero scientifico l'abbiamo intervistato. Cosa si intende per depressione post partum? Premessa una cosa è il maternity blue s quell'intonazione depressiva della mamma dopo la nascita del bambino riguarda dal 50 all'80% delle donne dura 15 giorni poi tende a scomparire ed è un fatto fisiologico normale altra cosa è la depressione post partum a volte presente già in gravidanza e nei primi anni della vita del bambino che comporta modificazioni ormonali e neurologiche è particolarmente insidiosa perché non è riconosciuta dall'ambiente e perché su una donna incinta al contrario pesa il pregiudizio positivo non puoi non essere felice e invece? invece verso la fine della gravidanza ogni donna comincia ad avere timori sulle sue capacità di mamma sulla salute del bimbo quante preoccupazioni materne che queste preoccupazioni materne che da un lato aiutano a concentrarsi sul figlio rendono le donne più fragili così da poter scivolare verso la depressione come incide la depressione post partum il rapporto della donna incinta con sua madre? in gravidanza per la donna è fondamentale la costellazione materna cioè che ci sia una madre da altre figure femminili esperti nell'allevamento a sostenerla la donna invischiata fatto di la donna depressa è chi non ha una madre accanto o con lei ha ancora un attaccamento invischiato fatto di dinamiche conflittuali o competitive per cui si sente sempre una bambina che viene giudicata non all'altezza è in aumento la depressione post partum oggi stiamo più attenti da tre anni con l'università di Roma e i consultori seguiamo 200 donne in un progetto di home visiting un supporto domiciliare di psicologi assistenti sociali che le assiste e le rassicura delle loro capacità di essere buone matri questo articoletto è apparso sull'Espresso del 22 febbraio 2007 tutto ciò che emerge da questo articolo è la mancanza di potere di essere nelle persone incapaci di affrontare la nuova situazione data dalla nascita del bambino ciò che questo psichiatra non sottolinea è che spesso la depressione post partum è data dallo spazio di vita che il bambino toglie alla madre la madre è prima di tutto una donna una donna cui suoi bisogni e le sue necessità la nascita del bambino in questa società priva quella persona di parte dei suoi spazi di indipendenza viene menomata nella sua esistenza e viene menomata non soltanto dalla nascita del bambino ma dalle imposizioni sociali che data la nascita del bambino condannano la donna al ruolo di madre si tratta di una forma di galera che sfugge all'analisi dello psichiatra perché le donne si guardano bene da rivelarlo in quanto se lo facessero sarebbero considerate delle indegne siamo all'interno della concezione della psichiatria nazista o psichiatria cattolica che può la stessa cosa che mette al centro della sua azione la costrizione dell'individuo al fine di adeguarlo alla morale o alle esigenze sociali a prioristicamente determinate la psichiatria che dovrebbe individuare quanto ostacola lo sviluppo dell'individuo agisce invece sull'individuo al fine di farlo aderire al modello imposto un'azione in cui non è l'individuo il soggetto importante ma la struttura morale che deve essere imposta all'individuo sottraendo all'individuo il suo potere di essere per costringerlo ad accettare il potere di avere mediante il ruolo in questo caso il ruolo di madre un ruolo di madre che viene imposto per impedire l'espressione della donna in quanto soggetto attivo nella società dice questo psichiatra esiste una patologia la depressione post partum e questo è un dato di fatto dice ancora tale depressione coinvolge circa il 10% delle donne e tale depressione si somma a quella che gli chiama maternity blues che altro non è che una forma psicologica di separazione della madre dall'azione del bambino nella pancia della madre che forma le relazioni empatiche in pratica la nascita del bambino tronca le relazioni empatiche con la madre la madre vive una situazione di sbandamento psicologico fra ciò che era prima e la nuova situazione fra ciò che era la sua precedente organizzazione psicofisica e la nuova situazione in cui il bambino è nato e tutta la psicologia si guarda bene da raccontarglielo nessuno dice alla madre che quello che lei sente durante la gestazione non sono solo i suoi sentimenti e le sue emozioni ma sono i suoi sentimenti e le sue emozioni fuse con i sentimenti e con le emozioni del bambino nessuno spiega alla madre che come lei con le sue scelte con le sue emozioni con le sue determinazioni guida la struttura psichica del feto così anche il feto agisce sulle sue emozioni sui suoi sentimenti affinché lei favorisca la crescita del feto per gli psichiatri il feto è solo una bestiola separata dal mondo una bestiola che deve essere allevata per due scopi primo privare la madre della proprietà del suo corpo cioè della decisione se alimentare o meno quella gravidanza secondo fornire alla società civile nuove bestie da allevare allo psichiatra fa comodo circoscrivere ogni problema nella relazione fra la madre e il bambino questo gli permette di semplificare ciò che è più complesso e che coinvolge l'intera organizzazione sociale cosa interessa allo psichiatra? organizzare delle squadracce fasciste composte da assistenti sociali che controllino militarmente le donne e dicano loro che saranno delle buone madri si tratta di mettere in atto un'azione di repressione nei confronti della donna sulle sue pulsioni di donna al fine di costringerla a piegarsi alle esigenze di aderire al modello di madre lo psichiatra strappa la donna nel suo potere di essere per imporle il suo potere di avere esercitarlo nei confronti del figlio che per lui è solo un oggetto e subire il potere di avere del sistema sociale che viene rappresentato dalle squadracce degli assistenti sociali gli assistenti sociali esercitano il potere di avere il controllo militare sulla donna affinché non esca dal ruolo di madre e siamo alla follia pura distruggere la donna affinché funzioni come madre è sempre stato un imperativo del cattolicesimo che non ha mai visto le persone come che non ha mai visto le persone come i soggetti sui quali si costruisce una società ma ha sempre visto le persone come bestiame del gregge che con la violenza andava sottomesso alla sua morale le visite a casa quelle che un psichiatra chiama home visiting sono delle vere e proprie pressioni psicologiche affinché le donne rinuncino al loro essere donne e esercitano il loro ruolo di madre evitando di gettare il bambino dalla finestra di sgozzarlo o di suicidarsi una società che carica sulla donna le sue contraddizioni e poi organizza delle squadracce repressive per assicurarsi che la donna non pretenda di essere donna ma si adegui al ruolo di madre la società d'altronde non ha messo lei incinta quella donna è quella donna che ha scelto di farsi mettere incinta ma la società ha spacciato come una dose di eroina la bellezza dell'essere madre nascondendo le implicazioni sociali economiche psicologiche che essere madre comportava quando la televisione parla di servizi sociali accentua il discorso su chi usa i servizi sociali e non sulla grande quantità di popolazione che non può usufruire dei servizi sociali a prezzi sostenibili la televisione e i media in generale mettono in evidenza il ruolo che hanno nella società i servizi sociali quasi a voler prendere in giro sia le persone che non possono accedere ad un prezzo accessibile a quei servizi sia l'aspetto negativo e distruttivo nei confronti della singola persona fatta dai servizi sociali stessi quando ciò viene fatto la distruzione del potere di essere nella donna per costringerla a fagocitare il potere di avere dato dal ruolo di madre è uno degli elementi più distruttivi della società civile la distruzione del potere di essere della donna inizia dalla madre che è stata privata del potere di essere donna al punto tale di aver fagocitato il potere di avere del ruolo di madre in quel momento quella madre si assume il compito di allevare i suoi figli e anche se l'esempio tratto dal libro di Elena Giannini Belotti dalla parte delle bambine scritto nel 1973 appare radicale in realtà lo stesso schema veicolato in maniera diversa nella cultura e nei mezzi attuali viene riprodotto dalle donne che hanno rinunciato ad essere donne per assumere su di sé il ruolo che il potere di avere ha imposto loro come madri proviamo a leggere dalla parte del bambino e della Bellotti quando le fu spiegato che non era assolutamente possibile che una bambina di quell'età giungesse a una coordinazione dei movimenti tali da permetterle di riempire il cucchiaio di pappa portarselo alla bocca e contemporaneamente girare il polso in modo perfettamente orizzontale in modo che il cibo non cadesse perché era necessaria una maturazione neuromuscolare maggiore ne fu molto contrariata obiettò che la bambina sua figlia era sempre stata molto precoce che camminava e faceva le sue cose nel vasetto con molta regolarità e che poteva anche capire che non tutti i bambini fossero così precoci ma visto che la sua lo era in altre cose rifiutarsi di imparare una cosa tanto semplice doveva proprio essere un puntiglio il risultato di questa estrema rigidezza materna era una bambina tesa spaventata muta e serissima molto magra e nervosa notevolmente disturbata nel sonno notturno in braccio alla madre senza tuttavia abbandonarsi al corpo di lei rigida confinata nella sua solitudine girava intorno due enormi occhi melinconici e fermi che conoscevano soltanto inimicizia con lo stesso schema veicolato in maniera diversa è quello imposto dalla chiesa cattolica che esaltando la figa vergine della sua Maria di fatto indica la necessità di distruggere il potere di essere della donna in funzione del suo ruolo di bestiame da parto che esalta in Maria la figa vergine della Maria usata per privare del potere di essere le donne nella società civile e costringerle a far proprio e riprodurre il potere di avere il potere del possesso nei confronti dei bambini trasformati in oggetto leggiamo il sillabario del cristiano de Francesco il giati lo chiamano monsignore questo già docente presso l'università del sacro cuore di Roma dice non si può neppure pensare una creatura più unita a Dio della donna che fu il paradiso dell'incarnazione e che nello slancio dell'amore riconoscente innalzò il magnificat lo spirito santo discese in lei ed essa divenne il tempio del Dio vivente dando la natura umana al figlio eterno di Dio e suo vero figlio si era preparata per Dio visse pregò lavorò offri per Dio la sua esistenza fu associata a tutti i misteri della redenzione della grazia ai gaudi agli strazi alle vittorie di Gesù e siccome per la grazia di Gesù è nostro fratello e noi costituiamo come vedremo un unico corpo mistico con lui la madre di Gesù è anche madre nostra secondo l'espressione del divino morente dall'alto della croce giustamente come osserva la vergine stessa a Santa Gertrude il Vangelo chiama Gesù il primo genito di Maria e non il figlio unico poiché dopo Gesù suo dolcissimo figlio o più veramente in lui e per lui e la ci ha generati tutti nelle viscere della sua carità e noi siamo divenuti suoi figli e fratelli in Gesù Cristo cioè pratica si usa la figa vergine della Madonna per privare la donna di tutte le sue pulsioni di tutte le sue tensioni di tutti i suoi progetti nella vita e trasformarla in una bestia perché questo è l'obiettivo del cristianesimo trasformare la donna in una bestia il libro è del 1944 ma come si vede dal comportamento della psichiatra della psichiatria l'ordine di distruggere il potere di essere della donna per sostituirlo col potere di avere e di madre è tuttora in atto e attuale quale disprezzo merita una società civile che anziché trasformare la possibilità della nascita in un momento di potere di essere dell'intera società attraverso il potere di essere della singola donna aggredisce militarmente la donna in situazioni di debolezza per privarla del suo potere quanto disprezzo merita una psichiatria che anziché fornire strumenti per rendere consapevole una gravidanza e la gestazione della crescita del bambino agisce militarmente affinché la donna non vada completamente fuori di testa date le condizioni criminali e terroristiche in cui la società civile la costringe dopo averla privata del diritto di decidere del proprio corpo strappare il potere di essere alla donna prima costringendola a patologie depressive per le condizioni disastrose in cui è costretta a condurre la sua esistenza poi criminalizzarla perché non ha rinunciato al proprio potere di essere in funzione del potere di avere nel suo ruolo di madre infine costringerla a porre le basi psicologiche affinché i suoi figli si sottomettano al potere di avere rinunciando al loro potere di essere in funzione del dominio sociale donne ricordate che venere trasferisce agli esseri umani il potere di essere di urano stellato e per farlo si accompagna a efesto e ad ares il fuoco del vulcano e alla guerra e questo affinché nessun potere di avere possa costringere le donne a rinunciare a se stesse quando questo avviene la venere dentro ogni donna trasforma le sue pulsioni in patologia ed è il principio femminile della vita Artemide che chiede che chiede a Zeus fa che il principio maschile Apollo non debba mai competere con me e questo è il pezzo che è stato messo in internet messo ieri perché non lo trovate nei motori di ricerca dovete entrare nel sito www.federazionepagana.it relativo a un primo discorso sul potere di essere i discorsi sul potere di essere che faremo attraverso la stragonaria attraverso il paganesimo saranno infiniti perché un qualcosa che sia legato al potere di essere socialmente non è mai avvenuto in quanto tutto si lega alla morte del corpo fisico l'essere o l'avere o tu hai la fede e sei sottomesso al Dio padrone che ti possiede come oggetto posseduto o tu sei quello che determina la tua vita perché sei tu che determini la tua morte e la tua vita oltre al corpo fisico allora il potere di essere appartiene solo a una cultura pagana non appartiene a nessuna cultura delle religioni rivelate pertanto non esiste una definizione all'interno della società di che cos'è il potere di essere ma esistono qua e là degli elementi che sporgono che sorgono dal potere di avere perché alla fin fine è soltanto il potere di avere e per riuscire a capire quanto grande è la devastazione quanto grande è la violenza che viene usata all'interno della società civile per distruggere il potere di essere delle donne non so io a parte gli articoli che verranno fuori oggi o domani sui vari giornali probabilmente qualcuno ce ne sarà anche sul giornale di oggi visto che come giornata della donna ci si ricorda che il 70% delle violenze subite alle donne guarda caso è subito dal partner cioè è il partner che fa violenza alle donne la famiglia che piace tanto a quel delinquente di Ratzinger la famiglia della violenza la famiglia che stupra i bambini che li costringe in ginocchio la famiglia dalla quale nasce il bullismo il bambino da 4 anni che picchia gli insegnanti cioè siamo robe da fuori di testa gli insegnanti che bastonano i bambini cioè questo modo di porsi rispetto all'altro che è sempre un disconoscere nell'altro una persona sociale ma è un oggetto un oggetto che si possiede una bestia da educare una bestia da violentare qualcosa che viene privato di se stesso del suo potere di determinazione e l'altro stesso che viene umiliato al punto tale di non essere più in grado di riaffermare se stesso di riaffermare i suoi diritti all'interno di una gerarchia dove una gerarchia sociale pretende che la gerarchia sociale superiore possieda gli inferiori come trasposizione di quella che è l'organizzazione sociale della Chiesa Cattolica quasi fosse il modello della società civile e nello stesso tempo le persone più deboli che hanno paura non hanno i mezzi per riaffermare se stessi e il barbone non ha i soldi per pagarsi l'avvocato e far causa a chi lo ha insultato questa società impedisce fisicamente alle persone più deboli di riaffermare i suoi diritti proprio perché pone tutta una serie di ostacoli dediritizza i diritti in pratica per avere il diritto devi fare tutta una serie di cose ma siccome quella serie di cose tu non le puoi fare di fatto tu vieni privato dei diritti ed è una società devastante cioè una società che dal punto di vista formale manifesta il diritto dall'altra parte per ottenere il riconoscimento del diritto servono tutta una serie di cose di cui tu non hai il diritto pertanto il magistrato non gliene ha fotte niente della denuncia che tu fai o della tua richiesta di giustizia perché al magistrato gli interessa la gabella gli interessa il rapporto con l'avvocato gli interessa avere l'esposizione gli interessa i suoi interessi cioè usa la sua funzione per farsi i fatti suoi per farsi i suoi interessi basta vedere uno qui ha un padre un tale Calogero Calogero dovrebbe essere stato arrestato in galera per attività di terrorismo per attività di eversione dell'ordine democratico palombarini pure dovevano essere in galera per attività di eversione dell'ordine democratico per i crimini che hanno commesso eppure nessuno li ha denunciati nonostante abbiano fatti i crimini perché hanno la forza per non essere denunciati per non essere perseguiti penalmente per cui esiste una società che priva di diritti le persone attraverso dei diritti che sono enunciati formalmente ma che di fatto le persone non hanno il diritto di rivendicare in quanto tali e la violenza sulle donne il nemico in casa è uno di questi il rapporto dell'istat ve lo leggo ancora dal 22 febbraio 2007 di cui vi ho già parlato per il ministro del pari opportunità quasi il doppio il numero di casi di molesti a sfondo sessuale violenza sulle donne il nemico in casa le aggredite sono quasi 7 milioni per il 70% colpevole del partner oggi come ieri nonostante tutto come se il tempo non fosse passato violenze in casa silenzi fuori il marito l'amante il partner che si trasformano in carnefici in nemici in persecutori botte pugni calci quando non è l'olio bollente il coltello puntato alla gola o lo stupro reiterato si perché l'istat non ha soltanto censito i numeri dei sopprusi sulle donne ma ne ha anche descritto le modalità le forme un vero catalogo degli orrori dove l'aggressione più lieve è lo schiaffo il più grave è l'ustione è davvero inquietante la fotografia che emerge dalla prima indagine sulla violenza contro le donne realizzata dall'istat su commissione del ministero delle pari opportunità che ne ha intervistato il 25 mila di età comprese fra i 16 e i 70 anni un'indagine ricca approfondita curata da Linda Laura Sabbadini direttore centrale dell'istat è durata 10 mesi di dialoghi e colloqui con le donne il primo dato è che sono 6 milioni 743 mila le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza fisica e sessuale nel corso della propria vita e rappresentano il 31,9% della classe d'età considerata ma a queste si devono sommare le vittime dello stalking la molestia aggressiva è ripetuta circa un milione e l'enorme numero delle donne che denuncia di essere stata oggetto di abusi psicologici 6 milioni un conteggio che fa schizzare a oltre 14 milioni il numero delle vittime complessive dell'aggressione a sfondo sessuale nella quasi totalità delle situazioni il 96% le violenze non sono denunciate in particolare se l'aggressore è il partner il nemico infatti denuncia il rapporto dell'istat e ancora troppo spesso dentro casa una vera escalation di violenza domestica se circa una donna su tre il 34,5% ha infatti dichiarato di aver subito dal partner una violenza molto grave e il 29,7% una abbastanza grave violenze fisiche a cui si sommano quelle sessuali nella classifica delle aggressioni emerge che l'autore dello stupro nel 70% dei casi è proprio un marito e compagno abusi e sevizie un nuovo tipo di reato previsto dal disegno di legge del ministro Polastrini che chiede al Parlamento di discuterlo il più presto ossia lo star king la molestia ripetuta che può arrivare a una vera e propria persecuzione e di cui sono state vittime il 18,8% delle donne intervistate ed è l'ideologia cattolica la donna si è sottomessa al marito dice quell'idiota che è Paolo di Tarso la donna porta il velo la donna taccia ed è questa violenza che è stata reiterata nel corso della storia in maniera violentissima ad opera proprio della famiglia della famiglia imposta proprio come modello criminale del Giuseppe della Maria del pazzo di Nazareth questa imposizione divina che nulla può rimuovere e che oggi militarmente in maniera criminale la Chiesa Cattolica tenta di re-imporre sulla società nonostante che nella società ci siano spinte diverse ma non impone agli altri cristiani non dice all'altro cristiano se tu sei cristiano devi fare la famiglia come te lo dico io no lo impone a tutti gli altri all'intera società civile la Chiesa Cattolica fa violenza a tutti coloro che non accettano i dogmi cristiani la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra all'intera società civile qui non si tratta semplicemente di ciò che dice Ratzinger dei Dico i Pax qui si tratta di violenza criminale fatta a livello mafioso per impedire che la società ottempia il dettato costituzionale in funzione del terrorismo cattolico perché Mattiazzo qui a Padova è un terrorista perché Scola è un terrorista e fanno terrorismo nei confronti dei bambini e voi non troverete mai un carabiniere che entra in una scuola e toglie il crocefisso non troverete mai il rispetto della Costituzione ma il disprezzo della Costituzione non troverete il preside che toglie il crocefisso e mette la stella a cinque punte della Repubblica Italiana sul muro perché ricordiamoci che la stella a cinque punte è il simbolo della Repubblica Italiana è il simbolo della Repubblica è il simbolo del Presidente della Repubblica è il simbolo dell'unità del paese invece no si preferisce sputare sulla Costituzione della Repubblica offenderla e mettere un ruido maiale attaccato in croce sulla parete offendere gli uomini offendere le istituzioni perché solo così si stuporano bambini è per questo che Mattiazzo Scola sono dei terroristi terroristi assassini perché loro la violenza la fanno su bambini indifesi vigliacamente in maniera infame loro sono quelli che danno la garanzia alle violenze nelle famiglie sono quelli che giustificano con i loro modelli e anche se non avranno il coraggio di sparare personalmente alle persone faranno continuamente violenza psicologica che significa mettere delle bombe a tempo nella società civile creare disagio creare storture fino a portare 27 ragazzi del Belunese a suicidarsi perché questa è l'attività della Chiesa Cattolica e se nella società civile non nasce una coscienza di questo non nasce la capacità di comprendere quanto criminale siano i comportamenti della Chiesa Cattolica non ci sarà nemmeno la possibilità di portare quelli che sono i diritti sanciti della Costituzione all'interno delle persone all'interno dei comportamenti quotidiani ci sarà sempre il terrorismo di un padrone da quando in qua esiste un padrone sopra le leggi ebbene il Cattolicesimo lo impone e lo impone con una violenza veramente criminale l'assassina proviamo a leggersi le dichiarazioni eccole qua le dichiarazioni ruini la fede sia guida della nazione no guida della nazione è la Costituzione non la fede è un assassino criminale qual è il macellare il suono Begomorra o del pazzo di Nazareth come può essere un povero deficiente come il pazzo di Nazareth la guida della nazione come può essere un criminale che dice o vi mettete in ginocchio davanti a me io vi ammazzo la guida della nazione ma siamo fuori di testa e che questo sia un'attività criminale e di eversione all'interno della società civile lo dice il Vescovo di Genova il favorito alla successione di Ruini dalla Repubblica 5 marzo 2007 parla il Vescovo di Genova favorito per la successione di Ruini alla presidenza della CEI il governo fa troppo poco i cattolici mostrino la loro forza la loro forza per destabilizzare la Costituzione per impedire alle persone di avere i loro rapporti personali questo è versione dell'ordine democratico ragazzi questo è terrorismo puro e semplice ma nessuno interessa combattere il terrorismo purché sia fatto nei confronti delle persone più deboli purché sia fatto nei confronti delle persone più indifese purché sia fatto ai danni della società civile e la costruzione del futuro della società l'importante è che non si spari addosso al politico l'importante è che si spari addosso al bambino al suo disagio sociale ecco il bullo sì ma chi è che ha costruito il bullo chi è che ha costruito quello che si sente megalomane rispetto all'handicappato chi è che ha costruito quell'imbecille che è andato a picchiare l'handicappato tifoso del rovigo dicendogli Dio ti ha punito rendendoti handicapato adesso ti punisco io ci rendiamo conto è avvenuto a Verona quando c'è stato lo scontro fra tifosi del rovigo e del belunese credo a Monserice non so esattamente dove siamo roba da fuori di destra cioè non esiste neanche più la possibilità o meglio se mai è esistita visto che la chiesa cattolica ha sempre fatto in modo che non esiste infatti se voi siete accorti e guardate si preferisce insegnare principi relativi alla monarchia assoluta ai bambini piuttosto che principi relativi alla costituzione della repubblica allo stato democratico si preferisce costringere bambini in ginocchio davanti al padrone rispetto a costruire una consapevolezza di cittadini relativa ai leggi e alle norme della società e questo è di una violenza di una distruttività che è spaventosa e questo viene favorito dagli organi perché organi di polizia organi di magistratura organi istituzionali loro pensano che stuprare le persone costringere in ginocchio davanti a un povero deficiente sia dopo più facile usarle per i loro scopi ma quando fanno questo indeboliscono l'intera società civile perché aggrediscono quelli che sono le norme costituzionali e anziché permettere le norme costituzionali di diffondersi nella società civile di diventare coscienza dei cittadini preferiscono fare azioni di violenza nei confronti della norma costituzionale ed imporre invece della norma costituzionale la norma della monarchia assoluta del dio padrone e questa si chiama attività aversiva né più né meno dopodiché 27 ragazzi si suicidano nel belunese chissà perché ci ha lavorato il gazzettino per costruire i suicidi ha sempre esaltato i preti e la loro attività di stupro la società civile sempre chissà perché si suicidano intanto andando un po' fuori rotta rispetto alla giornata della donna ma forse è l'unico modo anche per onorarlo un pochino vi faccio notare che ultimamente sono usciti alcuni libri alcuni libri che stanno tentando un po' di rimuovere quello che è il concetto assoluto della chiesa cattolica io ne ho visto uno diciamo così di sfuggita di questo ed è quello di Augas sono un po'